La vaccinazione dei bambini, nelle dosi ovviamente adeguate ai bambini, è indispensabile per evitare che il contagio si diffonda fra i più piccoli. La mia idea è di realizzare dei centri vaccinali per i bambini dedicati ai bambini, centri vaccinali pediatrici per i bambini. La mia idea è anche di impegnare fino in fondo i pediatri di libera scelta, quelli di famiglia. Grazie